Sì, io non ho parole. 500 dollari per una sessione terapeutica. Guarda, faccio l'ultima missione con Franklin e poi basta. Allora, vai Franklin. Franklin è in città quasi nel deserto, cioè quasi nella parte dove non ci sono edifici. Perché? Non si sa perché, vabbè. Oh, questa è la mia moto. Allora, vediamo un po'. Ho una missione, andiamo a farla. T? Ah, me lo ricordo, me lo ricordo, sì, sì. E quella tizia, non so se lo ricordate. Ah, spai, non mi sia ora con lui. Ah, spai, mi chiamano Lamar. Ehi, guarda, chop, devo stare a te nel tuo crib per un po' tempo, homie, è bello? Sì, è bello, è bello, è il migliore place per me, comunque. Ah, come se n'è nessuno qui a peccato il tuo black ass. Oh, s*****, n***a. Guarda, guarda di lui, ok? Allora, ho te, dog. Ah, vediamo un po'. Se ho qualche missione. Ecco, L Lester. Ah, ci devo andare con Franklin. Chop ora abita a casa di Franklin. Frankie può interagire con Chop. Ah, ok. Puoi magari un giorno andiamo a vedere. Ah! 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 N***a. Ma dove fucco? Ok grande Mamma mia le schivate Mamma mia Ok Ok non sapevo se riusciva a schivare il palo Scusate Tosse Io sono Franklin Devo fare fuori un po' di gente Tranquillo non sono un demente E mi appare il cappello totalmente a caso perché si E questo? Nope E questo qui No torna nei panni di Michael ma muori? Potrei dirmelo? Ah mi sa che prima di andare da Lester mi faceva per forza fare quella dei figli Sì però io con Michael sono lontanissimo Cioè devo fare un altro episodio Per riuscire a raggiungere Lester Io non so quanto sono con questo secondo episodio Cioè terzo episodio Vabbè non so quanti episodio ho registrato So solo che per ora può bastare Questa non so di chi è quest'auto Per lui la ruberò molto volentieri E credo che ci vediamo in un prossimo video Perché voi non volete un altro video adesso vero? Io lo so Cosa sto facendo? Vabbè non lo so Noi ci vediamo in un prossimo video Sempre qui su Game Legacy Ciao ragazzi Aspetta aspetta No non ho beccato vabbè Sfiga Bye bye